La sesta edizione del Collegio in autunno diventerà realtà e ieri, 12 luglio, sono iniziate le riprese che si concluderanno il prossimo 20 agosto con la festa di diploma del 1977. Al contrario del Collegio degli scorsi anni, quest'anno la produzione ha optato per girare le riprese nuovamente al convitto Regina Margherita di Anagni, che è facilmente raggiungibile dai più curiosi. Per questo motivo esistono online già un paio di video dei collegiali, come svelato da un video su YouTube, alle ore 8.00 di ieri mattina sono arrivati al convitto i cameraman e lo staff, alle 8.30 i bagagli dei nuovi collegiali ed alle 9.30 i ragazzi protagonisti della nuova edizione. Il cast è tuttora top secret, ma presumibilmente tutti gli alunni, i genitori e lo staff degli insegnanti e degli inservienti, hanno affrontato un periodo di quarantena per poter girare in piena sicurezza la stagione. Il Collegio 6, la nuova edizione è ambientata nel 1977. I protagonisti del Collegio vivranno nel 1977, anno innovativo che è stato la base della svolta economica e sociale del Paese, completatosi nel decennio successivo. La quinta edizione si era svolta nel 1992, la quarta nel 1982, la terza nel 1968, la seconda nel 1961 e la prima nel 1960.